Se vuoi vincere anche tu skin nei server privati o partecipare al contest è obbligatorio mettere il mio codice creatore nello shop di Fortnite Tanix03 tutto piccolo attaccato, tutto grande attaccato, non c'è differenza Cliccate se accetta e ogni volta che andrete ad effettuare un acquisto mi supporterete automaticamente senza nemmeno accorgervene Quindi raga per vincere skin, se siete noob senza skin potrete partecipare ai miei server per vincere qualche skin E quindi inserire il mio codice creatore Tanix03 Quindi raga godetevi subito questo straordinario video